Ben ritrovati, San Benedetto Blue Economy è il progetto presentato nei giorni scorsi al Ministero dello Sviluppo Economico che utilizzerà gli scarti del pescato per trasformarli in materie prime per le aziende del settore della Cosmesi, per integratori e per trasformarli in mangime per acquacoltura. Ne parla Francesca Perotti, amministratore delegato del CAP Centro Agroalimentare Piceno. È un progetto che ha visto come protagonista i pescatori, sono circa 20 armatori della marineria sanbenedettese che per la prima volta si sono riuniti per affrontare questo progetto insieme, anche con l'ausilio del CAP, del Centro Agroalimentare. La cosa importante è la tutela del nostro patrimonio, anche della tipologia del pescato, perché oggi non viene sufficientemente valorizzato. Quindi tra i vari obiettivi è quello di valorizzare la materia prima, di calmerare il prezzo e quindi aiutare comunque un comparto che è quella della pesca, che comunque è la nostra matrice, insomma è una cultura personale che abbiamo e che va assolutamente tutelata nel territorio, al fine appunto di andare ad individuare le macrovoci e fa sì che ci sia una trasformazione, una commercializzazione della materia prima che non consenta più di cumulare scarto. Questo scarto avrà una seconda vita, rientriamo nella tipologia di economia circolare a tutto tondo e quindi lo scarto o il sottomisura che oggi purtroppo non è adibito al consumo umano e viene rigettato in mare sarà nuovamente, avrà una seconda vita in che modo? Tramite integratori, tramite prodotti per la cosmesi tramite addirittura, diciamo anche l'ultima tipologia che comunque è il mangime per l'acquacultura animale in genere. Questo consente di chiudere un cerchio molto importante e soprattutto basato sulla nostra economia territoriale.